All'E14 scatterà il Gran Premio d'Austria, MotoGP in Pol Vignales, ma soprattutto proprio quel dovizioso che subito prima delle prove in cui oltretutto ha dato segnali di vita dopo la terrificante ultima prova di MotoGP della scorsa settimana, ha annunciato il suo divorzio dalla Ducati. Parliamo di tutto questo, del terremoto che sta scuotendo la MotoGP con il nostro inviato speciale, l'inviato di RTL 125, Max Biaggi. Caro Max, come stai? Buona domenica. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, ciao. Ecco, partiamo non possiamo che partire proprio da qui e tra l'altro anche dalle parole di Valentino Rossi che si dice sorpresore ha forse una chance per Bagnaia. Com'è la situazione? Cosa è successo? Ieri è stato dato l'annuncio che dovizioso non sarà più un pilota Ducati e un divorzio era un po' nell'aria perché negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi due anni c'era un po' di tensione all'interno. Ovviamente non trappelava mai, però qui noi nel paddock si sentiva già questa sensazione. Poi alla fine è così, i matrimoni, i grandi matrimoni portano dei grandi benefici, ma a volte finiscono. È finito un capitolo di Dovizioso che comunque ha portato alla Ducati tre secondi posti, tre volte vice campione del mondo, cosa che non è ancora riuscita mai nessuno. Dunque ha fatto il suo, chiamiamolo, lavoro, è finito un ciclo e se ne aprirà un altro. Certo. Max Biaggi, a proposito di questa chiusura amara, ma comunque di una bella storia come ricordavi tu poco fa, secondo te è un divorzio che può avere un effetto domino, può scatenare qualcosa sul mercato dei piloti della MotoGP? Assolutamente sì. Il fatto che Dovizioso non è vecchio, però non è neanche giovanissimo, ha 34 anni e sicuramente ha ancora qualche anno buono per poter correre. Ma ci sono tanti giovani che stanno venendo su rapidamente, uno l'ha detto te, il Pecco Bagnaia potrebbe avere una grande chance, Miller sarà pilota Ducati Malbro già il prossimo anno e degli altri piloti che dalla Moto2 promettono bene. A volte giocare anche la carta e il pilotino, come è successo a Quartararo, vi ricordate Quartararo l'anno scorso ha fatto una stagione esagerata, non vincendo le gare ma essendo sempre protagonista, ma lui veniva dalla Moto2. Dunque può darsi che la Ducati possa pescare un jolly nel bivaglio. E poi Max, prima di chiudere, innanzitutto dacci una battuta anche sul Max Racing Team, come sono andate le prove, va bene i pilotini, ma c'è un certo Orge Lorenzo, attualmente parcheggiato, più o meno, perché in realtà fa il tester ed è tutt'altro che in pensione, fosse lui la sorpresa? Sicuramente lui sarebbe uno ancora valido, però non so se questo possa accadere, adesso qualche mese di inattività, sicuramente non è che ha intaccato la sua velocità in pista, però bisogna avere la voglia e la motivazione per tornare a quei livelli. Per quello che è il nostro team abbiamo avuto un weekend un po' disastroso, il peggiore di sempre, queste prove bagnate, asciutte, non sono state digerite bene ai nostri piloti, partiamo nelle retrovie. Però io supporto al massimo i miei ragazzi, la squadra è tutta schierata con i piloti, speriamo di fare una bella rimonta, oggi alle 11 scatterà la Moto3, speriamo di una bella rimonta. Ci aggiornerai, grazie a Max Biaggi, appuntamento oggi alle 14 con il Gran Premio d'Austria di MotoGP, il nostro inviato speciale di RTL 125 è lui, ci sentiamo presto, sicuramente. Ci sentiamo presto, grazie a voi, non vi perdete il Gran Premio. Assolutamente sì, lo seguiremo anche nel giornale orario di RTL 125.